ben ritrovati a tutti da marcus buona domenica eccoci qui eccoci ritrovati il famoso 16 che avevo dato due o tre estrazioni fa annunciato con ambata contata e annunciato logicamente per perfezionare la previsione sempre con l'otto più più gold la posizione non è andata in porto ma è uscito come estratto semplice attenzione perché questa era rafforzata anche da ambata contata ambata contata è arrivata proprio con il suo vertibile quando vi ho sempre detto fate anche i vertibili ma non solo con ambata contata anche con 90 lascia il segno adesso andremo a vedere anche gli scontrini del 90 lascia il segno avevo dato il 2 e ho 20 su torino e genova cosa è uscito a genova proprio il 2 dove era il 90 avete visto anche la posizione dove era il 90 ha lasciato il suo 2 è come se per dire io scappo via ti lascio il 2 cari di sotto e così è stato vedete che le mie tecniche non sono assolutamente da sottovalutare anzi qualcuno si è ricreduto e ha detto porca miseria il 90 lascia il segno non pensavo veramente che desse proprio quei risultati ed è così ed è così è così allora questo il 16 di bari comunque questi sono alcuni scontrini che mi sono arrivati ieri eh sono contento perché ha vinto eccolo qua il famoso 2 eventi da giocare genova torino quindi è strato normale e è uscito ma ragazzi dopo pochi colpi veramente uscito subito quindi quello non lascia scampo adesso sto studiando il metodo per trovare gli abbinamenti ma vedrete che ci arriverò ben presto poi qui qualcuno ha collegato anche delle altre ambate sempre con o somma e no con se non sbaglio il 90 lascia il segno con ambata contata adesso non ricordo bene come come hai fatto però so che è beccato proprio lambo e su genova quindi è beccato mi sembra il 2 e il 50 ci guardo sì hai beccato proprio il 250 unendo le ambate bravissimo così che si fa ecco vedete che tutto quello che vi viene detto guardate un altro 2 genova 16 a bari due eventi di nuova genova torino vedete vedete che quando prendete alla mano quello che vi dico è tutto reale allora ambata contata prima di andare a vedere cosa cosa è successo con ambata contata e col grafico lineare ancora una volta ambata contata ambata contata allora 19 novembre recentissimo torino 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 81 81 qui 81 qui e di qua cosa esce guardate un po di qua cosa esce quindi 81 senza fare il vertibile o in prima a napoli o a milano o in prima a napoli o come strato semplice vedete che non c'è bisogno di giocare neanche il vertibile a questo punto guardate 81 dopo quanti colpi guardate quindi non è che non è vero che non escono dopo 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 pochi colpi o eccetera perché guardate 1 2 3 4 colpi tutte le previsioni vi ho sempre detto che possono uscire prima o dopo ma escono quando vedete che non escono più veramente dopo 11 13 colpi 14 allora si molla basta però nel ranger totale diciamo fra un ranger tra 5 e 7 e 9 estrazioni dai provateci no e arriva è arrivato porcino mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto un amico qua adesso mi è arrivato il messaggio c'aveva ragione l'81 uscito proprio su napoli e vedete che forse rimbalzerà anche su milano vedrete che anche l'81 ritornerà anche su milano noi aspettiamo 58 comunque di napoli e andiamo avanti eccolo qua il famoso due eventi da giocare su torino guardate 90 era il 24 novembre martedì guardate quanto ci ha messo a uscire allora 90 quindi ho due qui o 20 o come strati semplici o come ambo secco guardate 1 2 2 colpi ragazzi due colpi ve l'ho data ieri questa previsione quindi al primo colpo è uscita praticamente al primo colpo però in due colpi è uscita vedete e questa è un'altra poi il 90 che è uscito a venezia partendo da genova sempre a battacontata è sempre lo zampino di a battacontata ragazzi ma io ve lo devo spiegare sempre bene questa cosa vi vi nauseerò ma alla fine questa ragazzi questa quando vi dico che il numero è spia di se stesso c'avrò ragione 24 novembre recentissima quindi non solo e guardate il 90 era qui quindi adesso facciamo la conta è 1 2 3 4 e 5 quindi 5 10 15 20 25 30 35 ruota nazionale no 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 86 87 88 89 90 senza avvertibile o 90 bari o 90 la sua gemella venezia che cosa è uscito qua allora guardate 1 2 2 colpi 2 colpi 2 colpi 2 colpi vedete che escono subito anche le ambatte contate ma chi l'ha detto che devono uscire dopo tanto tempo non avete ancora capito questo gioco mi dispiace questa tecnica dovete ancora provare a farla ma sotto un altro mio amico qui del paese dove abito io mi ha detto guarda il 90 vai a contare perché è uscito dove 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 ambatta contata è arrivata ma davvero sono andato a vedere porca miseria cioè siete persino voi adesso a dirmelo siete persino voi a dirmelo quindi vedete che sono vuol dire che le cose le le assimilate finalmente capite è vero quello che vi sto dicendo ma ragazzi due colpi allora 90 era genova che fra l'altro ha regalato anche il 2 quindi 1 2 non solo ha dato il 90 90 venezia ma ha dato anche la tra posizione ragazzi cosa volete di più un lucano eh e questo era il 90 andiamo avanti allora 16 61 passiamo al 16 allora 16 era quello del 7 novembre no e avevamo fatto avevamo visto che a 6 colpi non aveva ancora dato quindi noi dal settimo ottavo e nonno colpo abbiamo cominciato a giocarlo quindi dal settimo colpo abbiamo cominciato a giocarlo allora 16 di roma 7 novembre 1 2 3 4 e 5 quindi 5 10 15 ruota nazionale no 16 o 16 61 qua o 16 61 qua o come ambo secco no allora avevamo fatto vi ricordate con il video di ieri no 1 2 3 4 5 6 ecco eravamo arrivati a 6 sabato che non c'era nulla poi mi hanno detto proviamo di qua 1 2 tacchete è arrivato sia al 16 peccato non in posizione ma al 61 si vede che quando il 16 non va in posizione significa che il 61 premeva anche lui e voleva farsi strada insieme al 16 quindi ambo secco si dice 61 anche d'ambata contata poi il lotto più gold allora l'8 più gold diceva chiaramente la sua allora questo era un 90 comunque di ieri su venezia adesso guardate ritorniamo un attimino a bari e riguardiamo il 16 ragazzi allora anche sulle 300 estrazioni guardate come dava ecco qua allora questo è quanto è quanto se c'è una previsione con i brontoloni ve la dirò comunque grosso modo sempre 58 ah aspettate un attimino allora decina calibrata attenzione vi ricordate quello 86 89 allora quarto colpo martedì quindi vedete che si agganza sempre poi a quello che vi sto dicendo da giorni quindi sarà l'ottavo colpo adesso arrivano i colpi micidiali quindi decisivi eh non mollate sto 58 perché guardate allora questa è decina calibrate le ruote gemelle allora guardate primo colpo 58 vabbè noi abbiamo la quarantina guardate che roba allora poi due tre di nuovo 58 in giro per strada nei campi in mezzo alla campagna quarto colpo domani e martedì scusate quindi ripeto questa è una previsione di decina calibrata fresca e riannuncia proprio su napoli il 58 quindi non si molla non si molla stessi ambientamenti stessa storia stesso posto stesso bar come diceva quello degli 883 max pezzali tutto qui allora per le prossime news domani mattina spero di fare il video se ci sono i brontoloni se non dico nulla la previsione va avanti solo su quella solo su napoli col 58 se ci sono i brontoloni ve lo dirò penso proprio che ci siano e indovinate con cosa il 58 è proprio il 58 poi vedremo dai comunque da parte mia è tutto e ci risentiamo dai un abbraccio buona domenica riposatevi e state sempre allegri cercate di rimanere allegri cercate di passare la giornata quanto meglio possibile ok dai ci risentiamo marcus ciao ehi non dimenticati di iscriverti ma soprattutto attiva la campanellina perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video grazie grazie